Si discuterà dei provvedimenti legati alla pace fiscale nella prossima puntata di Spazio Impresa in onda su Sud TV, canale SS3, domani giovedì alle ore 21.10. Il format settimanale che si occuperà di economia condotto da Alessandro Mazzaro discuterà dell'importante argomento con gli ospiti Pietro Vivone, presidente nazionale Fedapi, ed Antonio Proci, responsabile centro-sud di Fedapi. Nelle prossime puntate con vari ospiti verranno affrontati i temi più caldi riguardanti commercio, imprese e tassazioni. Grazie